Il primo caso a Silvi, naturalmente è un caso circoscritto, però dobbiamo tenere alta l'attenzione. Mi raccomando, non uscite di casa, adesso non si scherza più, abbiamo il primo caso sul territorio, dovete stare a casa, non dovete uscire, dovete uscire solo per estrema necessità. Ho appena fatto un'ordinanza dove ho disposto la chiusura dei parchi, dei giardini e delle piazze. Non è possibile vedere gente che si ferma ai giardini e alle piazze a leggere il giornale. Il giornale lo leggete a casa. Se dovete uscire per necessità, solo in transito, non si staziona da nessuna parte. Non voglio vedere persone, non voglio vedere gruppi, voglio vedere soltanto cittadini rispettosi per l'uni e per gli altri. Abbiamo bisogno di collaborazione, ce la possiamo fare e sicuramente dobbiamo arginare questa infezione. Però senza l'aiuto di tutti non ce la si fa. Mi raccomando, dateci una mano, ve lo chiedo con il cuore. Dobbiamo tutelare tutta la collettività di Silvi.